Tre immobili, due società commerciali ed una ditta individuale per un valore complessivo di circa un milione di euro. Questo è il patrimonio finito sotto sequestro al termine di un'operazione condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Chieti e dal personale della divisione anticrimine della questura teatina. Nel mirino delle forze dell'ordine è finito un noto pregiudicato calabrese di 39 anni affiliato all'Andrangheta, già arrestato e condannato a 28 anni di reclusione ed attualmente sottoposto all'obbligo di dimora nella provincia di Chieti. I sigilli finalizzati alla confisca dei beni sono scattati questa mattina su ordine del tribunale dell'Aquila e su richiesta della procura distrettuale antimafia sulla base delle risultanze investigative rispetto all'illecita provenienza delle ricchezze accumulate tra il 2000 e il 2020. Le complesse indagini infatti hanno ricostruito i flussi finanziari e gli investimenti negli anni con beni immobili e società intestate fittiziamente a familiari o a terze persone. Il 39enne viene definito dagli investigatori un personaggio ad elevato spessore criminale nell'ambito mafioso. Su di lui pendono diversi procedimenti giudiziari e alcune condanne anche in via definitiva per reati legati all'associazione per delinquere finalizzata lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 39enne calabrese era stato già arrestato nel 2010 nell'ambito di una indagine sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Abruzzo.